Multato a distanza di mesi dopo una rovinosa caduta con la sua bici, a causa di una strada completamente dissestata che da Palazzo del Pero conduce alle ville. A causa di un insidioso e ingombrante scalino, Alessandro della Lunga era caduto rovinosamente a terra con la sua bicicletta, quasi completamente distrutta. Sul luogo dell'incidente avvenuto nel marzo scorso, oltre all'ambulanza, erano arrivati i vigili urbani. Tanta paura e sei giorni di prognosi rimediati dal ciclista. Ho fatto regolare richiesta danni al Comune di Arezzo, anche perché avevo appunto questi danni fisici e i danni al mezzo stimati in oltre 1000 euro. Dopo la settimana scorsa è arrivata la comunicazione ufficiale dal Comune di Arezzo che loro non avrebbero risarcito alcun danno in base ad un articolo del codice della strada, in quanto i vigili urbani avevano stabilito che io non percorrevo la strada mantenendo il più possibile la destra, perché così recita l'articolo del codice stradale che loro hanno citato. Fin qui nulla di grave, io non vado assolutamente a cercare di guadagnare su una cosa del genere. Non mi sono fatto niente, che per me è la cosa più importante, perché è un'attività che gestisco da solo, quindi per me sarebbe il danno più grande farmi male dove stare allettato. Ieri è arrivata la sorpresa perché mi è arrivato il verbale dei vigili urbani, in cui hanno stabilito, non si sa bene come, che io appunto non tenevo la destra. Il problema è che questo spacco nell'asfalto, come è visibile dalle foto, prende praticamente tutta la carreggiata. Inoltre questo spacco è alla fine di un tratto di una curva di 180 gradi in discesa e quindi nel momento che si apre la visuale uno si trova questo spacco davanti con la parte destra di questa strada che appunto essendo ormai quasi dismessa è piena di detriti, sporco, brecciolino, quindi io camminavo dove ritenevo necessario. Il giorno dopo che è successo a questa strada? Il giorno dopo magicamente nessuno ha colpa, la colpa l'ho io, però la strada è stata riasfaltata perché è stato fatto un intervento di ripristino della sede stradale e quindi questo incidente è successo il giovedì, il venerdì il comune già aveva riasfaltato la strada in quel pezzo incriminato. Quindi è la conferma che evidentemente c'è un grosso problema o rischio? Secondo me è una mezza ammissione di colpa perché comunque dimostra che nessuno si è sognato niente, però la multa mi ha fatto veramente arrabbiare, perché è un perché noi cittadini sembra veramente che siamo sempre lì con la mannaia sopra la testa che alla prima occasione siamo subito vessati da mille gabelli, mille tasse e siamo sempre lì. Molte persone dicono vabbè multa di 50 euro, pazienza pagala, non va bene perché abbassare sempre la testa siamo stanchi. Io farò sicuramente ricorso, tra l'altro faccio parte di un gruppo sportivo che è la SD Tutto Bici e tutti i miei compagni si stanno mobilitando per vedere di fare un'azione collettiva proprio come gruppo sportivo, perché questa è un'ingiustizia a tutti gli effetti e non credo sia giusto.